Prosegue l'intagine sulle problematiche relative alla fitta rete degli ipogei che caratterizza il sottosuolo agrigentino. Il tavolo tecnico appositamente istituito dall'assessore alle infrastrutture Luigi Gentile, a seguito di relativa richiesta del genio civile, ha come obiettivo principale individuare gli interventi necessari per garantire la pubblica incolumità. E per far questo è stata chiesta collaborazione ai residenti e ai comitati di quartiere del centro storico, affinché collaborino direttamente con i funzionari. L'invito giunge dal dirigente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, Attilo Sciara, promotore di una serie di incontri previsti per i prossimi giorni, e dal capo del genio civile di Agrigento, Rino Lamentola, coordinatore del tavolo tecnico sugli ipogei. Il tutto con lo scopo di sensibilizzare i residenti nella collaborazione con le istituzioni, affinché la stessa politica possa reperire le risorse necessarie per mettere in sicurezza gli ipogei più superficiali e quindi maggiormente sottoposti al rischio di cedimento. In particolare, i cittadini, a fine di indicare eventuali accessi agli ipogei sconosciuti e inaccessibili, potranno già, dal prossimo lunedì 31 maggio, chiamare il numero verde 823 68 37. Grazie a tutti.